Alexei Navalny è un prominente leader dell'opposizione russa, avvocato e attivista anticorruzione. Ha guadagnato popolarità attraverso il suo blog, dove ha denunciato la corruzione tra gli ufficiali russi. Navalny ha anche organizzato proteste su larga scala contro il governo e ha sostenuto riforme politiche. Ha affrontato numerosi problemi legali ed è stato arrestato più volte. Nel 2020, Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, presumibilmente dai servizi di sicurezza russi, il che ha portato al suo ricovero in Germania. Questo incidente ha attirato l'attenzione e la condanna internazionale. Navalny è tornato in Russia dopo essersi ripreso, ma è stato arrestato al suo arrivo e condannato al carcere. La sua detenzione ha scatenato proteste in tutto il paese e condanne dalla comunità internazionale. Il caso di Navalny è diventato un simbolo dell'opposizione contro il Cremlino e dello stato della democrazia in Russia. Alexei Navalny è nato il 4 giugno 1976 a Butin, una cittadina vicino a Mosca, in Russia. Ha studiato legge presso l'Università Statale di Mosca e ha successivamente ottenuto un master in giurisprudenza. Navalny è diventato noto per il suo attivismo anticorruzione e la sua lotta contro il governo russo. Ha iniziato a guadagnare popolarità nel 2008 attraverso il suo blog Rosspil in cui ha denunciato casi di corruzione tra funzionari statali e società di Stato. Nel corso degli anni, Navalny ha organizzato diverse proteste contro il governo russo, attirando l'attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Ha anche sostenuto riforme politiche e ha cercato di promuovere la trasparenza e la contabilità all'interno del sistema politico russo. Nel 2020, Navalny è stato avvelenato con un agente nervino durante un volo interno in Russia. Dopo il ricovero in Germania e il recupero, è tornato in Russia, dove è stato immediatamente arrestato e condannato a scontare una pena di prigione. La sua detenzione ha scatenato proteste su vasta scala in tutta la Russia e una forte condanna da parte della comunità internazionale. Alexei Navalny continua a essere una figura di spicco nell'opposizione russa e una voce critica nei confronti del governo di Vladimir Putin. La sua storia è diventata un simbolo della lotta per la democrazia e i diritti umani in Russia. Il termine Ross-Pil si riferisce a un progetto anticorruzione creato in Russia da Alexei Navalny nel 2010. Il progetto si proponeva di esaminare contratti pubblici in modo dettagliato e di rivelare casi di corruzione nel settore pubblico russo. Navalny e il suo team hanno utilizzato tecniche di open source intelligence per analizzare documenti e contratti pubblici al fine di identificare potenziali casi di corruzione. Il termine Ross-Pil deriva dalla combinazione delle parole russe-Ross-abbreviazione di Russia, e Pil, abbreviazione di Pila, che significa segatura o taglio. Il progetto ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corruzione e ha portato alla scoperta di numerosi casi di malversazione di fondi pubblici in Russia.